Capitano dell'Eldora Qui con Rob Roth, Capitano bla 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 Ah, bello ragazzi Qui facciamo i video uno dietro l'altro ma Non diciamo i saluti Bello ragazzi, bentornati su iNubChannel, il canale degli scarsi Terzo episodio di Tomb Raider Qui Camper a commentare E anche SpawnKiller a commentare Camper anche a giocare Come sempre Come non è mai successo Beh, su Tomb Raider si Eh, beh, Tomb Raider ci hai giocato Ah, mio Dio, è stata tutta colpa mia Sì, va bene, sono un assassino, però Perfetto, bro Cos'è l'Endurance? È la nave Ah, ok Non è l'indurimento No, vabbè Eh, vuol dire, no, resistenza vuol dire Endurance Beh, è neofagata, è molto resistente, quindi Eh, certo, ha proprio scelto il nome a pennello No, no Allora, chi è che sta parlando? Ah, il capitano Conrad BlaBla No, è Roth R-O-T-A Eh, Conrad Roth Si, penso Eh, si chiama Conrad Roth Oh, non dice mai il suo cognome E come dice tipo Io sono James Vai, vai, vai Non sono Bon, sono James Facciamo una parte molto dinamica, dai Tanto non si va a caccia, peccato Quante frecce abbiamo? Otto Bene Tranquillo che le frecce le troverà per tutto Ma se finissi le frecce Ti puoi avere altre, fidati Oh Quella porta prima era chiusa È vero E quella persona morta lì non c'era prima Quale persona morta? Quella persona morta Quello che abbiamo inculato l'arco Era meno, era meno putrefatto Ah, sì, sì, era quello dell'arco No, no, che abbiamo poche frecce Giusto, hai ragione Una botola segreta Tutti hanno una botola segreta in casa, vero? E una torcia accesa apposta per farti scendere E soprattutto, no, cioè, lei è in tasso dopo aver passato tante di quei capitomboli OMG What's wrong? Che è successo? Si è chiusa la porta La soluzione è Possiamo solo scendere Eh, sì Ma il tipo non diceva che il segreto era sempre avanti Eh, esatto E sta andando sempre più in giù Perfetto Che non si brucia i capelli ogni volta che si tira la torcia sui capelli Vabbè O mollati da lì Sì, giustamente Dai Maia Simboli Maia 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 Ma no Cosa sono queste incisioni? Eh, me lo domandavo anch'io E se non lo sai tu non lo posso sapere io Quindi ma poi perché parli da sola brutta idiota Cosa sto facendo? Mmm, magari non ha prigione Ha problemi esistenziali Cosa sto facendo? Va bene Cosa sto facendo? Tranquillo, sono io che ti comando Fidati di me Oddio Oddio Prendilo, prendilo Un tesoro Abbiamo preso l'abilità prima per No, cazzate Un tesoro Eh, non è che trovi una più roba È una maschera di Ania Cosa serve? Non No, rappresenta una donna astiosa Asti malcontento? Dicchia sottovento Vai Vabbè Fottetevi tutti Questa maschera giocando per conto di me Non l'avevo trovata Bene Che 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 ha fatto? È aperto una Per quale ragione? Scatola ha preso Bulloni Ah, ok Bulloni Per potenziare le armi Una recita in clank Eh, no, non do quella Siamo venuti da quella No, no Siamo venuti da quella Siamo venuti da questa? Girati Eramo in acqua prima Non credo proprio Sì, 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 sì No Sì, che qui ha fatto la crisi di stritta Girati Ti giuro, devi girarti Ah, no Girati Non è vero Dai, che palle Stiamo perdendo tempo È vero Guarda che ho ragione io Allora, c'hai ragione tu Faccio un video Allora, qui siamo entrati C'è una C'è un quattro porte E quella porta lì A occhio si apre No, non si apre Quest'altra Sì Sì Oh, avevo No Direi un calcio Sai qualcosa per forzare Quei qualcosa Dove lo trovo? Questo diobelino È lì per terra C'è un bastone Il segreto della donna Ah, dagli fuoco È vero Via, 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 via Vabbè, si disintegra Smaterialization Oh, no Cosa, oh no Beh, ma che sono prosciutti Eh, già pronto No, non sono prosciutti, vero? Sono prosciutto crudo di Parma Minghe Piccozza da scasso Piccozza da scasso, ma poi Pensavo fosse tipo Piccozza da scasso È coltello da marcellaio, ma Noi lo useremo Per sfondare porte Piccozza da scasso Vai anche qua Dai, che mi sento tipo Lupin Vai, Lupin Buono Però sono donna E ho le tette Simpatica la cosa Dove è bello essere la Cosa Il personaggio donna di Lupin E Cut woman Fujiko No, che cut woman Che ne so io Un'altra lì che ne sapeva di Di come funzionava il mondo No, eh sì Di come far successo Utilizzando il proprio corpo Guarda, è tutto così luminoso Mi sa che sei proprio Sull'istinto femminile Devi nascendo la scala Mi porterà in cucina Ma a cosa ti è servito Scendere da lì e riferire da qui No Arriviamo in un'altra casa E Sono salito da un'altra parte Vedi, questa è una miniera Sì No Spegni la fiaccola Dove sei la spenta? Sì Eh Nel 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 buco nero Vai Perfetto Il fumo Fuma, fuma Surprise, motherfucker E questo chi è? Ma chi è lo questo zoppo? Questo chi è quello di prima Secondo me Della prima puntata Che ci rincorreva No, non è lui L'altro è morto Non era morto Fattene una ragione Quell'altro è morto Non possono aver inserito un personaggio Inutile Sì, l'hanno fatto Il minimo che potessi fare Non può essere Ehm, scusa Scusa, dimenticavo Io sono Mattias Ciao Mattias Faccio L'insegnante Di cosa? Che cazzo ci fa qua un insegnante? E poi che ci fa su quest'isola Un insegnante? Quello che ho chiesto io Sì, ti ascoltavo Sì, ti ascoltavo ovviamente Sì, tu ripeti tranquillo quello che dico io No, mi stavo ascoltando Mi stava raccontando Della regina del suo Oddio Ovviamente Tu sei un'archeologa Che cerca tipo Non lo so Oggetti rari Che ti scomparsi Ti raccontano una storia Ti racconto la storiella Perché non ti conosco Ma mi sei simpatico Poi non toccare la pelata Fa portafortuna Imiko era una puttana Comunemente dette Eh, la guardia tonnante Fieri samurai Cavalcavano i venti Va bene Oh, hai finito Dopo ti racconto anche una storiella C'era un personaggio cattivo Il suo nome era Cattivore Luke Darth Vader E il suo motto era 4316 No, vabbè Basta Se l'hai sognato? No, è stato addormentata E quando si risveglia Non trova Né Mattias Né Sam Oddio Che cosa banale Merda Sì Concordo Liquido Densa Però mi è preso un fulmine Ma sei stupida Ah no, una tagliola Mmm, una tagliola Però senza punte Sì, perché poi Vabbè Mmm, si prospetta qualcosa Di Sniper Feel like a pro sniper Che succede? Sento dei rumori nella foresta Che succede? Cos'è che arriva? Non lo so Se te lo sai non vuoi dirmelo Eh, effettivamente è vero Cos'era? Ho visto un'ombra Cos'è? Vabbè Oh Vabbè Cristo santo Era un lupo Wolf Un altro Ma guarda, è un branco Sì, ma Che ci fanno i lupi? Scusami Uff, e due Ancora Ma quanti lupi? Spiegami quanti lupi ci sono Ci hanno fame Ho capito Ma da quando i lupi vanno in branco? A cacciare in branco? Sì, da sempre tipo Non è vero Oh Feel like a sniper Eh, eh Magari Non potevano ovviamente attaccarmi Tutte e tre assieme Esatto Quella trappola poi Se non ci ficcavi dentro il piede Serviva per i lupi? Forse Ah, abbiamo trovato la tipa nera E lei ne sa di cose Anche loro Però ha perso gli altri due Allora, spiegatemi dove avete trovato quelle armi Perché loro sono armati Io ho un cazzo di arco Esatto Felice di rivederti tesoro Tesoro E questa ha pure una sciamola sulla sua Vabbè Pensavo fosse con te Pensavo fosse con Mattias È cattiva Sam No, è buona Secondo me è cattiva No, è buona lei Alla fine del No, è buona Vabbè E l'altro che E Mattias è cattivo? No, è buono Non è vero, non vuoi dire No, è vero Insieme a Lara Gli altri si mettono a cercare Sam Vado io con lei No No, tu sei un nerdone Che maglietta c'ha che ho scritto Esk Sì È un nerdone del gruppo Mamma mia, se sei un nerdone Lo fai proprio bene Ma come fai andare in giro con una maglietta così? Ma nasconditi Meglio le nostre magliette che vendiamo nella NewbStory Esatto Andiamo Comunque ringraziamo Alifax per averci dato il gioco e non l'abbiamo detto Lo ridiciamo ancora adesso Esatto Provate la fanpage in descrizione e anche la NewbStory in descrizione Esatto E cazzo Comprate qualche maglietta così arriviamo a 50 euro e ti danno qualche soldo perché deve ancora arrivarci niente Salutiamo Mr. Chef Tony Brutto a dirlo così Ti ne vanno scoperta Va bene Ti auguro di morire Cosa? Niente La solita trama, dividiamoci Ma ti puoi Ti auguro di morire Cosa hai detto? No, niente Niente, niente Però te le auguro lo stesso Niente male Diamo fuoco Ma tipo tu devi mangiare regolarmente o? No Puoi anche Lei non mangerà più da due ore in poi Ah, ok Però Indietro Indietro Ah, il fuoco non è da farle mangiare Ah, qui il bastoncino Io ho un bastoncino una di scorta Lo sappiamo quello che fa Lara con quel bastoncino E dove lo nasconde perché Dai, dai, è fuoco Fillaica piromane Ma perché dai fuoco poi? Perché prendo bulloni Vedi, prendo bulloni Ma vabbè Bulloni Allora, sì perché tanto poi Eh, non posso aprirla questa Non potenzia mai No, non c'è il picchetto da scasso Eh, ce ne vuole un picchetto Vedi, piccozza troppo fragile Ne serve un'altra Eh, se lo applico le mani Adesso prendiamoci l'arco Perché sicuramente Troveremo qualche cazzo di lupo Frecce, frecce, frecce Piene di frecce Anche sull'altro lato La domanda è Ancora Ho raggiunto il limite massimo La domanda è Chi lascia delle frecce? Ma dal lupo Oh, schivata Preso? No No, 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 no E altri lupi? No, eh vorrei dire di sì Cioè loro pensavano che l'avessi già finita tutta O spagli una freccia con lì mi sta antipatico Ok Non posso Spagli la vicino vicino Dannazione Vicino vicino Eh non posso No tipo a un centimetro della testa Guarda Davvero incredibile Cacchio le avrà fatti sicuramente un bambino questi disegni Li conosco Li faceva mio cugino Li conosco Li facevano i miei alunni dell'asilo Erano proprio bravi La figura femminile lo colpisce molto È stata realizzata di recente Ah ovvero vuol dire che l'ha fatto dal mio cugino Nooo è semplicemente una puttanata Straordinaria Mistero Dov'è Razzo de Gun in questi momenti? Esatto stavo pensando a Razzo de Gun pure io A cazzo de cani Insieme Insieme uno due No Lui non sta spingendo un cazzo comunque Eh vabbè Devo trovare qualcosa di più robusto per girare Una cosa di più robusta Ah beh basta fai si doppi sensi che mi sento Incredibile Estremamente Ma è lei che li fa mica noi Va bene C'è una cosa di più robusto Quindi Senza nessun doppio senso Cerchiamo qualcosa di robusto In quella cassa secondo me Qua Qui c'è da fare il potenziamento Quanti punti mi servono per il potenziamento? Non sono disponibili Mi servono bulloni Per la cassa? La potrò aprire quando avrò preso tanti bulloni Di cozzone Esatto Funzionerà Me ne servono altri Quanti bulloni gli servono? No di qua i lupi Sono sicuro che gli altri sono i lupi Perché c'è l'erba Sanno fare il giro i lupi eh Eh? Sanno fare il giro? Non lo sanno fare Beh Concediamo un po' di Di azione Perché dei naufraghi dovrebbero? Oh fermo 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 Fai il visuale del falco Oh cazzo Oh cristo bellino C'è nessuno Tu Non è morto C'è la velocità di scoccata di Legolas Vai due di fila Dov'è? Oh Feel like arcer Feel like Legolas Feel like Legolas death 90 Fai dopo la visione della donna Che c'è mi sembra Davide dove ti andiamo a caccia di draghi? No fai il visuale della donna E guarda da quella parte Esatto Andiamo a caccia di draghi Vedi là su vedi che c'è il totem Che l'avevo visto Ah e quindi? Eh distruggere ti prende punti Totem distrutti due Vabbè a tutti Sono regola Non me lo fai dire Modifica disponibile Prendiamo anche delle bacche Perché sono ecologista Se vogliamo allucinoginarci Istinto di sopravvivenza Dai Survival instinct Oh tira su frecce 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 Saltiamo perché saltare Fa andare più veloce È solo un'impressione Non è vero Visto che è lì Comunque Usa i materiali raccolti per potenziare armi Bla 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 Lo sappiamo già benissimo tutti quanti Dai abbiamo sta caccia di porta E finiamo sto video Oh Rinforzo ottenuto Abbiamo la piccozza Come si chiama? Ha cambiato roba questa piccozza da scasso? È diventata una piccozza da scasso La cosa divertente di questa piccozza da scasso penso ora Che si ha a scassare le casse Che si faccia il triangolo Non faccio niente Con triangolo lo spallate va bene Appri la piccozza con piccozza da scasso Apri la piccozza No la cassa con piccozza da scasso Eh ho preso altri bulloni Va bene Utilissimi Boh dai vai a aprire sta casetta qui Sì Adesso possiamo farcela Tu sei pronto? Sto stavo già girando Adesso gira velocissimo E prima con una piccozza un po' diversa Non funzionava Va bene Ok se volete sapere Se vuoi andare avanti Prima che si chiuda Questo fa il figo con una mano Mamma mia Se volete sapere cosa c'è di qua Lo scoprirete nel prossimo video Bella la camper E bella la spawn killer E bella la camper E bella la camper